La San Benettese si divera senza particolari problemi anche della Vigor Senigalli, abbattuta oggi 2-0 al Riviera il 2014. Rosso Blu inizia con il saluto della Curva. Loris, tifoso della Samp, scomparso per un mare incurabile pochi giorni prima del nuovo anno. L'unico striscione esposto in tutta la gara al centro della Curva Nord, senza i consueti vessilli e gruppi tifosi, stringe simbolicamente tutti in un abbraccio alla sua famiglia. Archigato il 2013 nel bilancio, il calcio San Benettese non può non pesare in maniera decisiva la marcata iscrizione in C di quest'estate. Delusione troppo cosciente per i tifosi Rosso Blu, nonostante che la squadra si è in D con Palladini la scorsa stagione, che dopo il ritorno in eccellenza abbia collezionato in campo quasi solo successi. Continua così la marcia della Samba per il ritorno in Serie D, allungando ancora sul Castelfidardo. La giovane vigor Senigallia di Alessandrini, invischiata nelle zone calde della classifica, ha messo in mostra anche oggi buone potenzialità, ma il divario tra le due formazioni è stato evidente per tutta la gara. Mosconi senza Padovani, indisponibile, non cambia nulla nel consueto 4-3-3 con Zuccheri in porta, Viti Amaranti esterni in difesa, Borghetti e Seiemame centrali. Trio di centrocampo con Baldinini, Traini e Fedeli e Tridente con Galli, Tozzi Borsoi e Piccioni. Samba in campo con completo bianco con banda rosso-blu. La vigor Senigallia infatti ha la divisa rosso-blu come la Samba, Calzoncini e Pantaloncini blu. Vigor in campo con un 4-3-1-2 con Moscatelli in porta, linea difensiva composta da Zandri, Gregorini, Mistura e Mukai. Centrocampo con Morganti, Carboni e Cuomo. Siena ad innescare le due punte, Pesaresi e Gorini. La Samba controlla il gioco sin dalle prime battute, ma la vigor ben coperta ed ordinata si difende senza particolare affanni. La prima azione degna in nota proprio di marca ospite. Al decimo rimessa a laterale sulla sinistra e scambio veloce con Pesaresi che trova Carboni pronta alla battuta a rete. Seiemame ribatte la conclusione del centrocampista e la vigor. La Samba replica un minuto più tardi, cross dalla sinistra per Fedeli che a pochi passi dalla porta e mette a lato. I padroni di casa premono per scardinare la difesa della vigor, ma nella prima parte di gara riescono solo a collezionare tiri alla bandierina. Al quindicesimo torsi i borsoi di testa, manda sull'esterno della rete, sugli sviluppi di uno di questi. Al diciassettesimo per la vigor, Pesaresi trova un corridoio per entrare in area. Amaranti è provvidenziale nel contrastare il centravanti ospite al momento del tiro scampato. Il pericolo la Samba riprende a caricare alla ricerca il gol del vantaggio che arriva al ventitreesimo. Viti dalla destra trova lo spazio per il close. Moscatelli è distratto sul secondo palo, Piccioni in spaccata, manda il pallone in rete per l'1-0 della Samba. Samba che continua a spingere, va vicino al raddoppio due minuti dopo, ma la conclusione in area di Galli è deviata in corner da Mukai. La Samba continua a rimanere padrona del campo e nonostante qualche decisione discutibile di oriferi di fermo la vigor, non riesce a imbastire una reazione incisiva così. Al trentottesimo la Samba Nettese trova anche il raddoppio. Galli lavora un buon pallone sulla destra e serve Fedeli in area di rigore. Il numero 11, rosso-blu, salta mistura in dribbling e dal vertice dell'area piccola trova il diagonale che buca Moscatelli per il 2-0. Non ci sono altre emozioni fino a riposo e dopo l'intervallo le squadre tornano in campo senza aver effettuato sostituzioni. La Samba fa accademia facendo circolare palla senza affondare e si vede in avanti la vigora. Al cinquantunesimo Pesaresi riesce a scappare alla guardia di Seiemame, cross in area verso Gorini, anticipato in angolo da Borghetti. Prova a prendere coraggio la squadra di Alessandrini che al cinquantadresimo ci prova con Morganti dalla distanza senza impensierire Zuccheri. Al cinquantasettesimo il tecnico della Vigo richiama Siena per inserire Boccolini che al sessantaduesimo si incarica di vattere una punizione ai 30 metri. Il suo sinistro è pericoloso ma sorvola di poco la traversa. Un minuto dopo Mosconi sostituisce Piccioni con vent'anni e la Samba si rivede in avanti al sessantacinquennio con una conclusione di Galli che però finisce lontana dai pali di Moscatelli. Un minuto dopo Zuccheri è costretto ad uscire per fermare Gorini che poi viene richiamato a Alessandrini per far spazio a Francioni. Al sessantasettesimo Pesaresi devia di testa una punizione dalla tre quarti con la palla che sfila vicino al palo alla sinistra ai Zuccheri e si perde sul fondo. Preferisce lo spettacolo alla concretezza la corazzata di Mosconi che però al settantesimo impegna Moscatelli con una violenta conclusione di Tozzi-Borsoi che costringe il portiere alla respinta in tuffo. Al settantasduesimo è ancora Pesaresi su punizione ai 25 metri a mandare alto di poco e un minuto dopo nel tentativo di spegnere le ultime belleità ospiti tra indici prove incrociando un bel sinistro dopo un gioco di prestigio al limite dell'area. Pallone alto di poco ma applausi scrosciati dagli spalti del Riviera. La gara ha un ultimo sussulto a pochi secondi al novantesimo quando Tozzi-Borsoi oggi a secco coglie di testa la traversa. Poi arriva il triplice fischio finale dell'arbitro. Poche parole bastano a commentare. La Samba attende con impazienza la fine di questo campionato per poter festeggiare la promozione. Indi la Vigor dovrà lottare per riuscire ad ottenere la salvezza. Grazie.